Villa Icidia, l'hotel-restorante per le occasioni da ricordare. Siamo affrascati, alle porte di Roma, in via Tuscolana Vecchia numero 81. Immersa in un parco lusureggiante, Villa Icidia vi regala indimenticabili momenti di gioia e relax. Aperta tutto l'anno, questa nobiliare villa romana, recentemente ristrutturata, fa rivivere momenti di storia e tradizione dal 500 ad oggi. Villa Icidia mette a disposizione tre sale meeting polifunzionali per importanti congressi che ospitano fino a 250 persone, garantendo un allestimento attento ad ogni vostra esigenza. Il ristorante crea una tappa d'eccellenza tra la più alta gastronomia, offrendo specialità locali e nazionali, ricercatezze di mare e di montagna, accompagnate da una ricca scelta di vini selezionati. Tutto l'anno si organizzano eleganti banchetti fino a 350 invitati, per matrimoni, compleanni, comunioni, battesimi, pranzi e cene di lavoro e ogni tipo di ricevimento. Villa Icidia è professionalità, cortesia, servizio impeccabile e qualità totale.